Dalle infrastrutture al turismo, dalla ristorazione ai contratti di lavoro. È un impegno preciso con tanto di firma di documento programmatico, quello che Confcommercio Marche Nord ha chiesto oggi ai candidati della provincia di Pesero Urbino, alla Camera e al Senato, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Una richiesta susseguente ad un incontro faccia a faccia. Incontro al quale hanno partecipato Antonio Baldelli di Fratelli d'Italia, Giulia Marchionni di Noi Moderati, Samuela Melini del Movimento 5 Stelle, Daniele Vimini del Partito Democratico, Federico Talè dell'Italia dei Valori, Renzo Savelli di Unione Popolare e Mirco Carloni della Lega in collegamento da remoto. Rispetto al palinsesto iniziale, invece, non sono potuti intervenire Stefano Aguzzi di Forza Italia, impegnato in sopralluoghi nei comuni alluvionati assieme al capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, così come Elena Fabri di Azione e Pierpaolo Loffreda di Più Europa, chiamati a impegni lavorativi e personali. Queste le proposte elencate dal direttore Confcommercio, Amerigo Varotti. Sono diversi argomenti che fanno parte del documento che presenteremo ai candidati. Di questi ce ne sono alcuni fondamentali per noi. Uno di questi è una legge ad hoc per il commercio, per il commercio di vicinato. Io credo che la politica abbia poco capito, poco compreso, che il commercio di vicinato, le botteghe, bisogna sostenerle se non vogliamo la morte della nostra offerta culturale. L'Italia è il paese dei centri storici, è il paese delle piazze. Nelle piazze c'è vita, ma c'è vita finché ci sono i negozi. I negozi stanno sparendo per colpa di una politica miope che ha favorito la grande distribuzione commerciale, desertificando in questo modo i centri storici e i piccoli paesi. C'è necessità di una legge ad hoc con incentivi di carattere fiscale, semplificazioni che consentono la sopravvivenza e la vita delle piccole attività. C'è poi un tema grosso, come una casa, che è quello delle infrastrutture. Noi siamo e proponiamo ai candidati di sottoscrivere un documento con degli impegni. Uno di questi è una nuova linea ferroviaria per le Marche. Non ci basta un bypass per Pesaro e per Fano, abbiamo tutto un territorio regionale che ha necessità di un collegamento rapido e quindi c'è bisogno di una nuova linea ferroviaria. In questi giorni abbiamo eletto con preoccupazione di diversità di vedute tra il Ministero delle Infrastrutture e la Commissione dei Lavori Pubblici per quanto riguarda la Guinza e quindi l'E78. Si rischia un nuovo stop a questi lavori che ormai sono l'incompiuta di 50 anni. Noi chiediamo invece ai politici e ai parlamentari un'accelerazione sul fronte dell'E78 perché è assolutamente necessaria per collegare le Marche con Roma e con il Tirreno. Altro tema che sta a noi molto a cuore è quello del turismo. Da sempre Confcommercio è impegnata su questo versante e abbiamo almeno due temi che sottoponiamo nel documento. Uno è avere un Ministero del Turismo con portafoglio perché è inutile avere un ministro se poi non ha soldi da spendere. Altro tema che parte poi da Pesaro è il riconoscimento della ristorazione come settore turistico perché la cosa stranissima è che la ristorazione che è uno degli elementi di attrazione più importanti nel mondo del turismo non fa parte del turismo, fa parte del mondo del commercio. E poi abbiamo l'assurdo che l'agriturismo che fa parte del settore agricolo quando ci sono finanziamenti in ballo diventa improvvisamente settore turistico. Finanziamenti che non sono consentiti invece per il mondo della ristorazione. Poi l'altro tema che abbiamo vissuto anche quest'estate con preoccupazione è quello del lavoro. Noi crediamo che vada rafforzato il ruolo della contrattazione però con una particolarità che noi sosteniamo e richiediamo da anni. I contratti di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative devono avere validità erga omnes, cioè devono valere per tutti. Non è possibile che noi, Confcommercio, che siamo un'associazione maggiormente rappresentativa con i sindacati maggiormente rappresentativi, firmiamo un contratto di lavoro onesto, dignitoso e poi abbiamo invece sindacati farlocchi, associazioni farlocche che fanno contratti farlocchi con salari minimi bassissimi da fame che creano quello che poi stiamo riscontrando la carenza di personale, gente che non va a lavorare nelle aziende del turismo ma nel mondo del lavoro in genere. Grazie a tutti.